Lepta. Arciaut, in la crotta, per seveglia plava crappiglie, sta snabbando dal parquetto del bosco. La crappiglie lasera per la ciabre, perché regna non si è perduta, e per seveglia l'arribava ancora a essere tiglie, facendo anche chi ci ha lavorato nel bosco che non aveva voglia di fare. Pensa che faccia, abitava anche ciò che faccia eliminare, chi gillava nella crotta da per lavare la ciabre. Ma eliminò e si stufiava bene a gillare, e anche cominciò a tardinare l'oraire per sé, perché qui c'è una storia, ma per seveglia l'aveva voglia di buttare se torna con la mia storia, e allora ha pensato che a me ne ha acquistato lepta. Ma quella lepta ha subito mandato un città che era tutto ciò che aveva un cervello. L'è una maniera per sapere sempre, ogni giorno, l'agio della luna. E non si fa. E' un po' difficile. C'è sapere il numero di lepta dell'anno che non ci sono, aggiuntare il numero del mese e poi anche del giorno. Poi, se ti fanno un esempio, gli ammendano le meina. Tu hai ragione. Parle è più facile da capire, allora rispondilo per sevegli. Allora, facciamo l'esempio del caso di un cioio. Il 24 giugno, il 24 giugno. Il numero di lepta del 2012 è l'esempio e si trova in una maniera complicata che vi spiego in altre video. Un numero si è aggiuntato a quel filo di ogni mese. Mars 0, Abril 1, Mai 2, Giugno 3, 4 luglio, Ust 5, Stembre 6, Ottobre 7, Novembre 8, Zembre 9, Genie 0, Turna e Bli 1. Le numero si sono a chi li chi perché un tempo in cui il clana comincia per la luna dalla prima, che vuol dire dal mese di Mars, e che i geniebili sono 10 e 1, un cioio di due e un resta 0 e 1. E la luna, solo giorni all'ora anche, vorrei essere bellissima. Qui siamo insieme, sia l'epta dell'anno 2012, 3 per giugno, 24 per ancora, buttando tutti insieme e fai 33. Allora è 33 giorni? No. Non è finito. Da che numero 33 ci sono i 30? E allora resta 3. Dopo che la luna è su un primo carto, 7 giorni, luna piena, 14-15 giorni, da ricarta 21 giorni e 30 giorni che non ti torna, e non è paziente il cielo, visto che tutti noi siamo truppati, che oggi ora è la nostra luna, il 24 giugno del 2012, e il giugno e la pancara si aggiorni e tutti insieme li buro la virgola. Bravo! Avete capito la maniera di sapere la luna di Persevere? Sì, ma quando non serve a sapere. Allora, ciò che uno sappia che invece la via di computer e di televisione è una via di bisogno di e di indicazioni per tutti i lavori che una via di campagna. Questo è un anno circa un po' di più. Ebbene, la luna vuole, che la vuol dire quando è mai 14 giorni, tagliare il bosco, le pelle, piantare la trifurale, stupare il vino e semna giur toraglie che la vanno sulla terra. Dopo la luna giove, la seria meglio facente e semna giur toraglie che la crea fuori dalla terra. Le minei hanno cominciato a girare con i tanti diversi taggi che la luna o riagù secondo giorno dell'anno, per esempio, le giorni che erano essi. Ebbene che girava, perseveglia senza dormire e sognava da non la luna. Grazie a tutti!